Quali sono le cose che sono state già dette negli interventi precedenti? Quindi questo mi consentirà di essere particolarmente sintetico e affrontare solamente alcuni punti, un po' di carattere terminologico. Abbiamo, io credo, cominciato il nostro convegno notando che c'è una diffusa nell'opinione pubblica, una grandissima confusione tra il concetto di immigrato, quello di rifugiato, quello di immigrato clandestino. C'è sicuramente una maliziosa tendenza a confondere i termini della questione, però dall'altro lato c'è anche la malizia della storia, cioè siamo di fronte a degli sconvolgimenti talmente forti da mettere effettivamente in crisi le vecchie definizioni. Cominciamo con la condizione giuridica dello straniero. Non ogni straniero ovviamente è un immigrato, non ogni straniero è un rifugiato. Il nostro ordinamento tutela in linea di massima la posizione dello straniero, la condizione giuridica dello straniero a partire dalla Costituzione. L'articolo 10,2 della Costituzione recita la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. La giurisprudenza costituzionale di merito ha sempre più spesso interpretato questa previsione come un allargamento nei limiti del possibile e del ragionevole delle tutele dei diritti fondamentali di cui gode il cittadino italiano anche allo straniero. Quindi quando non c'è nessun motivo sensato per cui lo straniero non debba godere delle stesse tutele dell'italiano, ebbene allora deve essere tutelato alla stessa maniera. Il comma successivo dice Lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. E qui si entra in un'altra questione che è quella dei rifugiati. Il concetto che come si vede dal dettato costituzionale originariamente è legato specificamente alla condizione del rifugiato politico, quello è il modello fondamentale, cioè la persona che non può godere delle libertà democratiche, dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche e quindi per questo è costretto ad allontanarsi dal proprio paese. La Convenzione di Ginevra del 1951 definisce questa persona come colui che ha fondatamente timore di subire delle persecuzioni e delle discriminazioni che riguardano il problema dei diritti politici, del diritto di espressione del pensiero politico, ma che poi si allarga anche ad altre casistiche, cioè non si tratta solo del rifugiato politico nel senso stretto del termine, ma anche della persona che può subire discriminazioni per altri motivi assimilati, cioè per appartenenza etnica, per appartenenza religiosa, per appartenenza nazionale, sociale, eccetera. Poi successivamente a questa condizione del rifugiato politico, inteso in senso generale, viene assimilata anche la condizione di chi è titolare a una forma di protezione del tutto analoga che è quella dell'assistenza, della protezione sussidiaria, che riguarda le persone che hanno fondato motivo di correre un pericolo di vita o comunque di lesione di diritti fondamentali e quindi di subire tortura, ad esempio. Questo anche in conseguenza non solo di persecuzioni, ma anche di violenza, di situazioni di violenza generalizzata o di guerra. Come vedete non sono la stessa cosa. Se vogliamo parametrare i due problemi, metterli in proporzione l'uno rispetto all'altro, il numero dei rifugiati è estremamente minore rispetto a quello degli stranieri che sono a vario titolo residenti in Italia. In Italia abbiamo 5-6 milioni di stranieri, di questi una percentuale minima, oserei dire, addirittura irrisoria, corrisponde a quella del rifugiato nel senso classico del termine. Solo che sta succedendo negli ultimi anni qualcosa di un po' diverso dalla previsione della Convenzione di Ginevra. Sta succedendo qualcosa che è più analogo a quanto è accaduto nel primo dopoguerra piuttosto che nel secondo dopoguerra. Nel primo dopoguerra, a conclusione delle operazioni belliche, si è arrivati alla dissoluzione di numerosi stati, degli imperi centrali per esempio. Si è dissolto l'Austria e Ungheria, si è dissolto successivamente l'impero ottomano, si sono creati nuovi stati come la Cecoslovacchia, si sono determinati mutamenti notevoli nei confini degli stati e questo ha prodotto la migrazione forzata di milioni e milioni di persone, di molti milioni di persone. Solo dalla Turchia sono andati via, sono stati espulsi circa due milioni di greci, altrettanti turchi sono stati espulsi dalla Grecia, in Cecoslovacchia e in Polonia sono stati espulsi altri popoli di origine tedesca e così via. Quindi questo ha richiesto che la società delle nazioni, creata contestualmente alla fine della Prima Guerra Mondiale, si attivasse per risolvere problemi come la perdita della cittadinanza, milioni di persone si sono ritrovate prive di qualsiasi cittadinanza o semplicemente, pur avendo un loro documento di identità, si sono ritrovati senza patria o senza casa. Quindi è stato necessario creare un documento particolare, il passaporto Nansen, cioè per dare un minimo di esistenza documentabile alle persone, è stato necessario prendere delle misure straordinarie di assistenza, paragonabili un po' a quelle che l'Alto Commissariato ai rifugiati ha assicurato dopo la Seconda Guerra Mondiale e fino ai giorni nostri. Ecco, in situazioni di questo genere, cioè di grandi movimenti di masse di persone che sono espulse dal territorio dove si sono stabiliti, in un momento in cui si stanno distruggendo degli stati, ormai Siria, Iraq e Libia sono stati puramente teorici, sono dei quadri istituzionali puramente teorici, in situazioni di questo genere, caratterizzate anche da una endemica guerra civile, e stanno saltando le distinzioni tra i rifugiati politici, le persone che sono spinte genericamente dalla paura o la disperazione, dalla mancanza di risorse ad allontanarsi dal proprio territorio. E questo rende tutto estremamente più difficile. Fino a pochissimo tempo fa, cioè fino all'inizio di questa crisi, molti chiedevano che la definizione di rifugiato dell'articolo 1 della Convenzione dell'ONU sui rifugiati fosse aggiornata, fosse allargata, comprendesse anche le persone in fuga dalla propria patria per motivi di guerra, per motivi di carestia, per motivi di disastri, e che quindi venissero parificate queste situazioni. Una richiesta molto ragionevole e molto umana che in questo momento potrebbe non essere così semplice da soddisfare. Un punto su cui vorrei soffermarmi è quello del risultato di così importanti movimenti di migrazione di massa. Cosa stanno determinando in Europa? Stanno determinando la creazione di un importante strato della società che non è cittadina, non gode del diritto di cittadinanza, però tende a stanziarsi sul territorio per lungo periodo di tempo. Gli immigrati tendono in qualche modo a rimanere, e noi lo sappiamo in effetti che non sarà possibile, diciamo, come si dice, far rientrare il dentifricio nel tubetto. Ecco, cioè sarà estremamente difficile che queste migrazioni poi si risolvano semplicemente in una rapida risoluzione dei problemi nei paesi di provenienza, in un rapido rientro. Questo è veramente impossibile. Bisogna cominciare a immaginare un'Europa successiva a questa epoca di migrazioni. Cosa succederà in concreto? È evidente che si dovrà trovare una soluzione che renda possibile l'integrazione sociale delle masse di persone che comunque sono già qui o verranno qui successivamente, e la concessione della cittadinanza attraverso delle procedure ragionevoli, non allarmanti, non disastrose, realistiche. Per esempio, il ricorso che si sta programmando in diversi paesi a strumenti come lo IUS soli temperato, lo IUS culture, come si propone ad esempio in Italia, mi sembra una soluzione particolarmente intelligente, particolarmente interessante. In questo momento si sta creando questa possibilità, si sta tentando questa strada non solo in paesi come l'Italia, ma anche in paesi come la Grecia. E qui, con un certo coraggio, voglio dire, il governo greco in questo momento sta affrontando, sta prendendo di petto un tabù di tutta la storia greca, cioè il problema della cittadinanza etnica. In Grecia oggi, concretamente, avere l'accesso alla cittadinanza per un immigrato richiede in pratica un'indagine sulla propria religione, sulle proprie idee politiche. Si tende a impedire che qualcuno che non condivida tutta una serie di contenuti culturali e dei principi etici della tradizione greca, si tende a sfavorire che questi abbiano l'accesso alla cittadinanza. Ebbene, proprio adesso il governo, proprio in funzione del controllo dei flussi migratori, intende offrire agli immigrati questa possibilità, cioè di strumenti di più rapido accesso alla cittadinanza greca. Gli italiani stanno facendo la stessa cosa, anche per noi il principio dello ius sanguinis è stata una tradizione, diciamo, lungamente diffusa nella nostra storia. Adesso cerchiamo di uscire da questo. Cosa vogliamo fare con politiche di questo genere? Impedire che si formi stabilmente uno status giuridico intermedio tra cittadino e straniero, impedire che si verifichi in Italia, in Europa, la stessa situazione giuridica che caratterizzava i meteci del mondo greco. Ecco, questo, i non stranieri, come anche nel nostro ordinamento talora è stato adombrato, non vogliamo non stranieri in Europa. Preferiamo programmare un futuro in cui con le dovute cautele, i dovuti tempi, si determini la creazione invece di nuovi europei e di nuovi italiani. Grazie. Grazie.